Sampdoria deve guardare sempre in avanti. Siamo quarti in questo punto della stagione, puntiamo anche al terzo posto. Se riusciamo a lottare fino a fine per un posto in Champions League, male che ci vada, ci ritroveremo in Europa League. Ma so anche che mi sto esponendo, e mi sto esponendo tanto, perché di solito poi dopo uno fa le brutte figure. Ma io sono convinto che i miei ragazzi non mi deluderanno. Perché siamo cresciuti nel gioco, nella personalità, nella maturità, nella convinzione. Abbiamo rispetto per tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Ci giochiamo le partite studiando gli avversari, ma senza mai perdere la nostra identità. E sono anche odonesto, perché penso che questa Samp non ha una rosa da Champions. ma ha volmini con le palle, ha organizzazioni di gioco e anche il morale, la testa, come può avere una squadra di Champions League. Dico ai ragazzi che è quasi impossibile, però proprio su quel quasi noi dobbiamo costruire la nostra voglia di impresa, di riuscirci. Anche perché il nostro quarto posto sembra un sogno, ma invece è una realtà fatta di sudore, di elementi, di sacrifici, di fatica. So che alcune squadre hanno deluso, ma noi sicuramente ci siamo guadagnati ogni singolo punto su campo e lotteremo fino a fine. Poi non so se a fine dove arriveremo, ma so che non moleremo neanche un minuto di quei 900 che sono rimasti ancora da giocare. Poi al di là del piazzamento finale, penso che la nostra vittoria più bella sarà quella di essere consapevoli di non aver avuto e di non aver nessun rimpianto perché avremo dato tutto. Poi se a fine altri saranno più bravi, gli faremo complimenti, ma questa è anche l'essenza dello sport. Io, a parte la partita domani, che è sicuramente una partita difficile, però penso che per noi arrivando a questo punto di stagione, affrontare Fiorentina con due punti di vantaggio è un grande motivo di orgoglio da parte di tutti. Loro stanno bene, giocano memoria e ci vogliono scavolcare. Noi d'altra parte veniamo da quattro vittorie consecutive, perciò abbiamo ancora voglia di stupire. Sicuramente è giornata di domani, visto che c'è Roma-Napoli, Fiorentina-Sandoria, una giornata di bei incroci. Vi diamo a fine chi riderà, anche pur sapendo che il campionato domani non finirà. Non so sinceramente come mi accoglieranno domani a Firenze, ma per me non è un problema. Come ho sempre detto e ripeterò, ringrazierò per sempre la famiglia della Valle per le opportunità che mi hanno dato. Io a Firenze ho dato tutto, era una situazione particolare e non ha funzionato. Però non ha più importanza. Tornarci su, anche quella esperienza mi è fatta e mi è servita per crescere. Adesso Fiorentina è una grande squadra, gioca bene e sono contento. E per la proprietà e per il mio amico Vincenzo.